Sono Ivano Panzeri, sono un imprenditore della zona di Varese. Insieme a mio figlio stiamo dando via un progetto di riqualificazione dell'area che abbiamo acquistato l'anno scorso, sul lago di Varese, sul vecchio campeggio Settelani. Che cosa consiste questo progetto? Creare un'area turistica di eccellenza, con un glenping di alta qualità, con la presenza di un house di design dotato di tutti i servizi, e anche delle tende di nuova generazione, con tutti i servizi. L'idea è creare una zona turistica insieme a un'azienda di cura per offrire quello che oggi tutti noi vogliamo, una migliore qualità della gente, un cibo sano, migliore qualità della vita e anche offrire un progetto etico per lo sviluppo della zona.